ciao ragazzi buongiorno eccoci nuova avventura questa mattina mi trovo a maccarese ai lachi tre denari e oggi andrò a pescare con i fratelli del black miller ha dato sul muddigger bianco era un bellissimo pecca ci riproviamo eccoci nuova Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo. E' un bel pesce. E' un bel pesce. E' un bel pesce su un madigger. Speriamo di non perderlo, è bello, è veramente importante. Non so che pesce è ancora. Wow, sei bellissimo. Qualsiasi pesce sei, sei bellissimo. Stiamo mettendo a dura prova la X1. Wow, sei bellissimo. Sì, 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 ragazzi, sì, ragazzi. Madigger X1 Pro messa alla prova a livelli mostruosi ed eccolo qui. Eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui. Eccolo qui. Guardate che bello. Sul madigger. Wow, è stupendo, ragazzi. È stupendo. Kinda, ragazzi. uddhi. Mia. Grazie per la visione!